Stalle vuote ma piene d'acqua. Messi in salvo i cavalli e qualche mezzo, le giacche verdi di Pesaro contano ora i danni creati dal maltempo. Quasi 4 ettari di terreno rimasti sommersi dalla forza del Foglia, che in piena ha scavato sottoterra gli argini, creando una fessura di circa 8 metri, finendo poi per allagare l'intera area attorno a strada dei Pioppi. Dalla famiglia Marfoglia, che ha visto la propria casa circondarsi d'acqua in poco tempo, così come le abitazioni vicine al casello autostradale. Momenti di panico e di allarme, quello che ha lanciato alle 16.59 di lunedì il presidente delle Giacche Verdi, Luca Bezziccheri, al consorzio di Bonifica. Attimi di terrore che al mattino dello stesso giorno non avrebbe mai pensato di poter vivere. Lunedì mattina ci siamo alzati, vedendo il tempo come era così impervio, siamo venuti a controllare. Quando sono venuto qua, la mia premura è subito andare a vedere il fiume, lo stato del fiume qui vicino a noi. Io di solito metto due aste, due bastoni, uno nell'acqua e uno fuori nell'assiuto, per vedere a distanza di qualche ore o due ore se il fiume sale o scende per i vari tipi di allarmi che troppo potrebbero essere. Ed eravamo tutti nella norma. Invece dopo nel pomeriggio noi eravamo qui al prescidio a guardare i nostri cavalli, fare un controllo come di routine. Verso le quattro e qualche cosa mia premura di riandare a vedere questi due bastoni. Prendo e mi incammino con un altro signore che è qua con me. Mentre ci incamminiamo vedo dell'acqua in questo campo qui di fronte a me, che questo è sempre su tutto come altri terreni nostri. Qui intorno era tutto a posto, ma mi era strano quest'acqua qui. E ho cominciato a guardare da dove poteva venire e ho visto del bollio dell'acqua sotto quella pianta grossissima con dell'edera. La mia premura sono andato a vedere subito anche là da dove poteva venire se l'argile, la piena poteva aumentare. Invece stava diminuendo da questo segnale che ho messo io. E cosa ho fatto? Ho chiamato io il consorzio, ho dato io l'allarme perché ho detto lì comincia a bullire l'acqua, lì fra un paio d'ore, non lo so, può essere un'ora o tre ore, lì l'argine lo rompe. Vivo dal fiume da sempre, essendo un osservatore, ma anche una guardia, ho sempre controllato il fiume. Lo conosco bene il fiume Foglia, come le mie tasche. E di fatti è successo così, perché io ho chiamato il consorzio, gli ho detto che c'era questa allarme, di avvisare a tutti, dai pompieri, i carabinieri, qua ci sono le famiglie, che il fiume sarebbe entrato dentro. Abbiamo fatto in tempo di mettere in sicurezza i quattro mezzi che siamo riusciti a spostare, prendere tutti i nostri uomini a disposizione, sono arrivati i pompieri, sono arrivati quello che c'era, abbiamo preso l'autorizzazione di loro per spostare i cavalli, alle sei e mezza circa, abbiamo spostato i cavalli a piedi e qua c'era già un metro d'acqua. Il fiume è entrato da quel buco che vive alle nostre spalle. Lo Stato, dunque, è la regione e questo argene qui non l'hanno mai mantenuto, mai fatto. Io che viaggio qui intorno, non ho mai visto una ruspa a vedere se c'è un buco o quant'altro. Non è che ha scavalcato. È successo qui da noi e io ho fatto il tempo a dare l'allarme, perché conosco le famiglie che ci abitano, conoscono i marfogli che hanno le loro difficoltà, conosco quello che c'era, mi sono premonito dicendo queste cose. Così come le case attorno alle giacche verdi, anche le stalle dei cavalli si sono scontrate con l'acqua del fiume. In queste ore, infatti, è intenso il supporto che la protezione civile comunale sta dando, con l'intento di liberare il prima possibile lo spazio per i cavalli, ora occupato dall'acqua. La cosa però che voglio dire è che i cavalli li abbiamo messi subito in salvo. Alla sera stessa abbiamo trovato che ci hanno ospitato i vari centri ipici, grazie a tutti quanti che hanno dato la collaborazione. Ora le giacche verdi si ritrovano con gran parte del terreno di loro proprietà inghiottito dall'acqua del fiume e finché l'area non verrà messa in sicurezza, i cavalli non faranno rientro nella loro dimora. Se non riusciamo un po' a pomparlo, a metterci in sicurezza, ci farà un anno prima che si assorba, forse anche di più. Ma quello non sarebbe un problema, vedere un laghetto, vengono degli uccelli, tutto quello fa parte della migrazione, è bello anche da vedere. Bisogna metterli in sicurezza per vari motivi, perché lì abbiamo tre metri di acqua, il punto più alto sono tre metri di acqua. Mettersi in sicurezza vuol dire avere un buon senso di buttare fuori quest'acqua. Non so come, gli istituzioni si devono mettere d'accordo fra loro, non so, la Regione, Genio Civile, Provincia e Comune parlano fra di loro per metterli in sicurezza. Così stiamo tutti più tranquilli.